Ciao a tutti, per quest'anno Natale ho deciso di farvi questo breve video. Dura solo 4 minuti e mezzo, nella quale vi presento 8 esercizi e farete 20 secondi alla massima intensità, 10 secondi di recupero. Lo potete fare tutti i giorni, bastano solo 4 minuti, anche a giorni di Natale, ok? Vi servirà per smaltire tutti i pannelloni e i pandori che avete mangiato, 4 minuti al giorno. Dai, facciamolo. Vieni, nel primo esercizio c'è uno skip basso. Vieni. Ok, perfetto. Secondo è uno squat, già con la frequenza cambia, si alza notevolmente, eh? Pronti con il squat? Vieni. Ok. Contrate le tendine di addominali per fare lo squat. non devono alzarsi i talloni, guardate sempre avanti con la testa e la schiena deve stare sempre in linea. Evitate di scegliere troppo e le mani le potete portare avanti mentre scendete. Stop. Terzo esercizio, molto faticoso, è uno skip alto, ho ginocchia alte. Le brazze lunghe i fianchi, le ginocchia sono alte, ok? Via. Ok, wow. Perfetto. Prossimo, lo chiamo saluto al simo, è un esercizio che potete fare con i due varianti, con la flessione o senza. Ve lo faccio vedere in tutti i due modi. Senza flessione. Oppure con le flessioni. Perfetto. Prossimo esercizio per parte addominale, contenitivo, sono delle tenute isometriche. Paggia giù, addominali contratti, glutei stretti. tenete bene, non deve farvi male alla schiena, eh? A questo punto vi accorgete come ormai basta da quattro minuti. Ok, stop. Il prossimo, il più faticoso di tutti, uno squat già, parola molto gambe e glutei. Belli contratti, eh? Via. Via. Ok, perfetto. L'ultimo, sempre a dovinare. Via. 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 Ok. L'ho dimenticato, uno. Per la fatica comincia a chiudere le vene. L'ultimo. Apro, apro. Chiudo, chiudo. Via. Speed, velocità. Apro, apro, chiudo, chiudo. Via, 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 via. Stop. Perfetto. Provateci. Un bocca al lupo. Tanti auguri di buona tarde. Ciao. 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 Tanti auguri di buona tarde. Grazie a tutti.